Estetic Italia ti propone il metodo per il ringiovanimento e l'ipilazione del tessuto cutaneo attraverso Lightwave. Lightwave è l'apparecchiatura che grazie all'utilizzo dell'Oxamon genera un potente flash il quale viene veicolato in profondità nel tessuto tramite un manipolo e grazie alla melanina agisce con efficacia senza danneggiare le zone circostanti. Lightwave è particolarmente indicata per il trattamento estetico e medico estetico di ipermelanosi, acne, rughe, macchie senili, smagliature, cicatrici, ipertricosi, irsutismo e teleanjectasie. I trattamenti sono indicati per uomini e donne i quali potranno così trarre più vantaggi da un unico apparato. Lightwave si propone carrellata con piano di appoggio per ciò che occorre all'operatore. Display LCD retroilluminato a 240 pixel in tecnologia touchscreen, tre filtri colore di differente lunghezza e la possibilità di programmare ben 100 trattamenti. Il design italiano, volutamente minimale, la facilità di trasporto e la scelta dei colori importanti ma eleganti vanno di Lightwave, uno strumento di facile utilizzo che si intona in qualsiasi contesto estetico o medico estetico.